Oggi finalmente capiremo perché l'universo si sta espandendo, tutto questo grazie a Friedemann. Ma chi è? Friedemann è un cosmologico matematico russo, è risolso alcune equazioni della relatività generale e grazie a questo riusci a descrivere l'espansione dell'universo, quindi non ti spaventare se inizio a parlare della relatività generale. Il modello diabolo, ovvero quello cinematico, è irrealistico, ma comunque ti consiglio di andare a visionare che dà un po' le basi per questo video qua. Per conoscere il modello cosmologico di Friedemann bisogna capire un po' la nostra amata luce. Il moto di una particella non dipendono dalle forze che agiscono su di essa, ma dalla geometria dello spazio-tempo. La geometria dello spazio-tempo sarebbe una struttura quadrimensionale dell'universo in maniera molto semplificata dove ci si appoggiano i vari corpi celesti. Questo vuol dire che la particella non si muove con la forza con cui è stata spinta, come si cadeva in passato con la seconda legge di Newton, ma grazie alla geometria dello spazio-tempo. Quindi la luce si propaga in linea retta da un punto A a un punto B solo nello spazio vuoto. Se incontrano qualsiasi corpo celeste, come può essere la stella, la luna-luna, un satelite naturale, un pianeta, beh, questa viene deflessa. Quindi vuol dire che non è in linea retta ma è incurvata, variando anche la sua posizione reale. La deflessione avviene perché un corpo celeste ha modificato le proprietà geometriche dello spazio e questo avviene perché lo spazio è curvo e non piatto, ma di questo argomento lo approfondiremo alla fine del video. Quindi il moto di una particella o di un raggio luminoso è determinato dalla geometria dello spazio-tempo e dalla distribuzione della massa-energia. Adesso vi chiederete cos'è la massa-energia e perché ne dipende? Beh, perché l'energia gravitazionale varia la geometria dello spazio-tempo per cui una particella o una radiazione come la luce non viaggia in linea retta ma segue il piano spazio-tempo. Quindi prendiamo come esempio questo corpo che curva in questa maniera lo spazio-tempo allora la luce sarà obbligata a seguire questa curvatura data dallo piano spazio-tempo. Per capire il modello cosmologico immaginiamo di affettare lo spazio-tempo quadrimensionale che è formato da larghezza, lunghezza, profondità e tempo e lo dividiamo in ipersuperfici tridimensionali formati solo da lunghezza, larghezza e profondità. Ciascuna delle ipersuperfici tridimensionali è caratterizzata da eventi simultanei che avvengono in punti diversi dello spazio quindi vuol dire che in ogni superficie tridimensionale ci possono essere più eventi simultanei in diversi punti nello spazio in un certo istante. Per semplificare una ipersuperficie tridimensionale la definiamo omogenea e isotropa cioè presente le stesse proprietà in tutte le direzioni. e grazie a queste ipersuperfici tridimensionali abbiamo trovato una costante di nome k che può essere uguale a 0, uguale a 1 o uguale a meno 1. Se k è uguale a 0 allora abbiamo uno spazio tridimensionale euclideo cioè in maniera molto semplice e semplificata si ha uno spazio bidimensionale e quindi si ha una curva nulla. Se k è uguale a 1 si ha uno spazio tridimensionale chiuso con curva positiva e assomiglia a una sfera. Invece se k è meno 1 si ha uno spazio tridimensionale aperto con curva negativa e assomiglia a una sella. Per chi non mi conoscesse io sono Luca sono youtuber e racconto una storia facile e veloce quindi se vuoi scoprire di più di questo mondo beh ti consiglio di iscriverti al canale. Ma adesso continuiamo il video parlando di come ci possiamo accorgere e di come si espande l'universo. Per capire ciò facciamo un esperimento abbiamo tre osservatori che con molta fantasia li chiameremo A, B e C e sono tutti e tre in una sfera e distanti l'uno tra l'altro equamente quindi tra A e B è di un'unità e la distanza tra B e C è sempre di un'unità. Ma se noi raddoppiamo il raggio della sfera l'osservatore A direbbe che B si è mosso meno di C perché C per A si è mosso di due unità invece B di una sola unità. Questa variazione di velocità è solo apparente perché in realtà A e B e B e C hanno sempre la stessa distanza è solo raddoppiata. Il Big Bang è successo in ogni punto dello spazio anche se nel momento del Big Bang lo spazio non esisteva. Vorrei sottolineare che la superficie dell'universo è illimitata anche se è finita. Quello che vorrei che voi non pensiaste è che l'universo abbia i bordi perché non ce li ha e mai ce li avrà. Lo so è un concetto un concetto non normale per il nostro cervello perché comunque tutti gli oggetti nella nostra vita quotidiana hanno i bordi. Potete pensare che i bordi tra virgolette si sfumino pian piano spariscano. Come ho detto all'inizio del video il moto di una particella avviene uno spazio curvo e non piatto perché la curvatura è determinata dalla distribuzione della massa ed essa genera il campo gravitazionale. Per il nostro universo che è omogeneo e isotropo la curvatura dello spazio-tempo è legata alla densità cosmologica con il simbolo omega 0 ed è il rapporto tra la densità dell'universo al tempo presente e alla densità critica. La densità critica è la densità media che dovrebbe avere l'universo per essere geometricamente piatto e quindi né in espansione né in concentrazione. Se la densità dell'universo è maggiore della densità critica allora la curva sarà positiva altrimenti negativa. se è uguale la geometria è della ipersuperficie T costante e oclidea in maniera molto semplice non c'è curvatura. Ma come capiamo quando l'universo si sta espandendo o collazza? Beh fare un esempio è molto semplice se noi tiriamo un sasso in un tempo più o meno lungo dipende con quanta velocità lo tiriamo o con quanta energia lo tiriamo ritorna per terra beh questo grazie alla trazione gravitazionale terrestre. se però noi lo lanciamo una velocità tale che il sasso riesce a sfuggire alla trazione terrestre beh questo non ritornerà più indietro. In cosmologia la situazione è identica infatti grazie al parametro di densità noi capiamo l'azione gravitazionale dell'universo e quindi far passare da una fase di espansione a una fase di collasso. Quindi noi grazie al parametro di densità capiamo se l'universo si sta espandendo o collassando all'inizio del video ho parlato di cos'è e da cosa è causata la deflessione della luce e l'incurvature dello spazio-tempo questa introduzione mi è servita per farti capire il modello cosmologico di Friederman e ho fatto un esempio dell'ipersuperfici e questo mi serviva per farti capire cos'è K che è una costante successivamente ho parlato dell'espansione dell'universo e quindi anche del Big Bang ed infine ho parlato della curvatura che ne avevo anticipato all'inizio del video e tutte queste teorie sono state scoperte da Friedman spero di non averti stancato troppo perché siamo giunti alla fine del video e quindi se hai domande tu vi scrivi pure nei commenti non esitare io ti risponderò sicuramente e noi ci vedremo in un nuovissimo video sempre qui su questo canale buon anno averti stancato Grazie a tutti.